La polizia del commissariato di Vittoria ha arrestato Simone Giannone, un giovane ragazzo di 18 anni che negli ultimi tempi ha commesso una sfilza di reati. In particolare, ieri mattina, il giovane ha minacciato di morte la donna, madre di una bimba di 4 anni, che lo ospitava nella sua abitazione da quando aveva deciso di abbandonare la casa del padre per delle incomprensioni. La donna, oltre a subire delle minacce, è stata colpita violentemente con un calcio causandole delle lesioni a una gamba. Non contento, con un grosso masso, ha danneggiato l'auto e sponduto la finestra di casa della donna dopo che quest'ultima l'aveva cacciato via. La polizia, allarmata da una chiamata del 113, è intervenuta rapidamente, ma non sono riusciti subito a immobilizzarlo, dato che tentava in tutti i modi di colpire i militari. Quello di ieri non è il primo caso in cui è si è dimostrato l'atteggiamento criminoso del ragazzo. Infatti, già nei giorni passati, è stato richiesto l'intervento della polizia in quanto era stato riconosciuto come l'autore del furto di alcuni DVD di una Playstation ed è stato denunciato per il furto di un ciclomotore e di due biciclette. Ieri, per Simone Giannone, sono scattate le manette. Il giovane è stato arrestato per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e violazioni di omicilio ed è stato condotto in carcere a Ragusa. Grazie per la visione!